Allora, scusate di tutti questi piccoli contrattempi, diretti e indiretti miei, di Nando, dell'accidente. Stamattina ho mandato degli articoli, nessuno è riuscito ad aprirlo, improvvisamente è cambiato il sistema. Proverò a correggere stasera, stanotte. Allora, siamo nelle... Microsoft Word richiede la tua attenzione. Per esempio, noi siamo intorno al centosessantesimo anno dall'Unità d'Italia ed è la ragione per cui cominciamo questo corso sull'Unità d'Italia che oggi ci sembra una cosa ovvia, ma che ovvia non era ovviamente centosessant'anni fa e probabilmente le cose che diremo le avete studiate, le abbiamo studiate. Ci saranno dei ricordi della nostra infanzia, che io spero di migliorare un po', di dare un po' di pepe e di curiosità relative a questo periodo, però è importante riandare con la mente agli avvenimenti che si sono succeduti nel tempo e che hanno portato alla creazione di questo paese. Non voglio dire di questa nazione, perché la nazione Italia c'è sempre stata, almeno dal punto di vista letterario. L'idea d'Italia ha percorso tutta la storia dai barbari in poi e per quanto poi l'Italia non facesse più parte dell'impero romano d'Oriente, addirittura c'erano due imperi, d'Oriente e d'Occidente, c'era il ricordo di Roma, c'era una continuità con l'impero romano e Dante ci parla d'Italia, Leopardi ci parla d'Italia, c'è una continuità intellettuale con il termine Italia e con la storia d'Italia, che non aveva nessuna connessione poi con la realtà politica italiana, che era invece estremamente frastegliata, estremamente parcellizzata, e questo è stato in un certo senso la fortuna e la dannazione del nostro paese, perché quando si dice che l'Italia è uno dei paesi più belli del mondo dal punto di vista naturalistico, e poi si scopre che lo è anche dal punto di vista artistico, sembra incredibile constatare quanta bellezza fatta dall'uomo, non fatta dalla natura o da Dio, si sia concentrata su questa penisola. In realtà c'è una spiegazione, e io l'attribuisco al fatto proprio della divisione politica del territorio, perché noi abbiamo inventato, gli italiani hanno inventato i comuni, che sono stati una risposta al sistema feudale, se vogliamo, hanno inventato le signorie, i piccoli principati, i piccoli ducati, eccetera, i granducati. Cioè i italiani non sono riusciti nel tempo, per una serie di ragioni, a raggiungere una unità politica, hanno raggiunto un calidoscopio politico, per cui ogni città in Italia, nell'Italia di oggi, era allora la capitale di un piccolo principato. Sì, sì, comunque è arrivato. Che significa che ogni principe tendeva ad abbellire la propria città, tendeva a rivaleggiare con gli altri, si sviluppava una competizione nel potere, ovviamente, in guerra, certo, nell'estensione del territorio, ma anche nella bellezza e nella capacità di attrarre i geni che fiorivano in Italia, in un paese, in una cittadina, piuttosto che in un altro. Noi abbiamo delle piccole, piccolissime città, pensiamo ad Urbino, ad Ascoli Piceno, a città ducale, ne cito una, cioè città minori, minorissime, che negli Stati Uniti scomparirebbero, perché sono soltanto degli agglomerati urbani, che invece sono dei centri d'arte, che sono splendidi e danno il senso proprio di questo culto della bellezza, di questa competizione anche nella bellezza, che è stata la fortuna e la sfortuna d'Italia. La sfortuna poi perché l'Italia, prima di raggiungere l'unità che è stata raggiunta in modo estremamente faticoso, è difficile e io vi racconterò anche per un colpo di fortuna e sperato, quest'Italia qualcuno la definì, anche se è un'espressione mal tradotta, una semplice espressione geografica, perché tale era. Però quest'Italia poi si è formata. Come si è formata? Allora dobbiamo andare un po' indietro. Io preferisco darvi un quadro iniziale delle cose perché è bene ricostituire le ragioni, le motivazioni di tutto quello che è accaduto dal 1815 in poi. La data del 1815 è importante per due ragioni. La prima perché segna la sconfitta definitiva di Napoleone a Waterloo. Waterloo è stata, nei cento giorni, è stata la grande, ultima occasione di Napoleone. Sconfitto Napoleone a Waterloo, nei pressi di Bruxelles, e sconfitto poi per una serie di circostanze che sembrerebbero più determinate dagli accidenti del caso che dalla incapacità o capacità dei suoi avversari, è finita un'epoca. Un'epoca che partiva dalla rivoluzione francese francese 1789 e che attraverso l'impero napoleonico si conclude nel 1815. Poi Napoleone per la seconda volta viene preso, fatto prigioniero e viene poi inviato a Sant'Elena e l'immunità. E si chiude un periodo, un periodo che è straordinariamente importante perché la rivoluzione francese segna il passaggio, diciamolo pure, da un Medioevo piuttosto aggiornato ed intellettualmente ormai evoluto alla modernità, con il culto della Dea Ragione, con il rovesciamento delle monarchie assolutiste prima in Francia e poi anche altrove, con le nuove idee di democrazia, ovviamente non è più quella che ci abbiamo noi oggi, ma è l'inizio di un processo di democrazia, con le prime idee che cominciano a circolare di socialismo, è un socialismo anche questo completamente diverso, ma la rivoluzione francese e il periodo napoleonico significa un cambio di passo straordinario nella storia dell'Europa, significa ridisegnare i confini degli stati europei, la Francia si allarga, cadono i monarchi, si distribuiscono pezzi di territorio a destra e a sinistra, si fa addirittura un regno d'Italia con Eugênio de Boarnet, il Piemonte diventa una regione francese, cioè avvengono dei cambiamenti giganteschi. Ma il secondo evento importante nel 1815 non è la fine di tutto questo, ma, come direbbe un mio amico Ciociaro, è anche il ricomincio di quello che c'era stato prima, e cioè al congresso di Vienna si riuniscono gli stati vincitori di Napoleone. Sono stati, noi oggi li chiamiamo reazionari, sono gli stati che hanno vinto e che quindi decidono il nuovo assetto d'Europa. Non decidono follie, perché questo assetto d'Europa, così come profilato dal congresso di Vienna, andrà avanti fino alla guerra di Crimea. E fino alla guerra di Crimea non ci saranno più lotte fra gli stati europei. E' un po' quello che è accaduto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si sono uniti gli stati vincitori e hanno detto, beh, adesso basta, facciamo le Nazioni Unite, non ci devono essere più guerre. Nell'ambito di questa decisione, poi i paesi dell'Europa, che più avevano sanguinosamente pagato la Seconda Guerra Mondiale, fanno la comunità europea per dire non ci dobbiamo più scannare fra noi. E fino adesso, salvo le guerre di Jugoslave, questo principio ha retto. Lo stesso principio ha retto dal congresso di Vienna fino alla guerra di Crimea, 1856 mi pare, grosso modo. Quindi per mezzo secolo le potenze vincitrici di Napoleone raggiungono un obiettivo, la pace, che era l'obiettivo primario. Ma non è questo l'unico obiettivo. Non si riuniscono per ottenere la pace, si riuniscono per riportare indietro l'orologio. Perché il principio fondamentale di chi vince è chi ha perso. Ricordate il vevictis di Brenno, quando butta la spada sulla bilancia che pesava il tesoro che i romani dovevano pagare per il riscatto dei loro prigionieri? Il vevictis è voi avete perso. Quindi avevate torto, quindi avete sbagliato e quindi restauriamo ciò che avete distrutto. Infatti si apre il periodo, diciamo, della restaurazione. E come restaurare l'Europa dopo fatti così fondamentali come la rivoluzione francese e l'impero napoleonino? Semplice. Si rimette sul trono, si rimettono sul trono i re che sono stati scacciati dalla rivoluzione, qualcuno è anche morto. Quindi si troveranno gli eredi e si restaura la legge così com'è. C'è un detto famoso nella nostra storia più recente quando caduto il fascismo si riapre un'Italia pseudodemocratica all'ombra degli alleati, eccetera eccetera e un famoso scrittore italiano comincia un articolo, una frase che era già famosa e che ripete Eri dicevamos. Cioè, dopo vent'anni di fascismo, dopo cinque guerre combattute, dopo una guerra mondiale persa, dopo la guerra civile in Italia, questo signore si presenta su un giornale del Sud come se niente fosse stato e parla di quello che era accaduto nel 19, come se il 19 fosse ieri. E la stessa cosa hanno fatto gli stati che si sono riuniti a Vienna. Quindi questo principio è stato importante, è stato uno dei principi conduttori della politica di Vienna. Ora, non bastano queste considerazioni. procedono alla restaurazione e stabiliscono un altro principio che non ci devono essere variazioni territoriali se non sono condivise diciamo dagli stati principali. Gli stati principali sono gli stati vincitori. E quindi tutto viene ingessato a un minuto prima della rivoluzione francese. Ma quali sono gli stati vincitori? Chi sono? Beh, certamente l'Inghilterra. L'Inghilterra, come nella Seconda Guerra Mondiale, è il paese che non ha mai perduto. Ha perduto delle guerre, però è sopravvissuto al blocco navale fatto da Napoleone, ha perso tanto in uomini, in prestigio, eccetera, però alla fine ha vinto. ha vinto, le truppe inglesi sono a Waterloo fra le protagoniste della battaglia. L'altro paese presente è l'Austria. L'Austria, nemica secolare della Francia. Così nemica, anche prima, che una figlia dell'imperatrice d'Austria viene mandata e sposa al re di Francia per migliorare i rapporti tra Francia e l'Austria. Ma l'Austria non è quella che conosciamo oggi. L'Austria è un grande impero che occupa mezza Europa. È una potenza con la quale si misura la Francia. La Francia monarchica, la Francia pre-rivoluzione, si misura con l'Inghilterra, che è un'isola, quindi, vabbè, sta là, però, in combe, e con l'Austria, che è una potenza terrestre. Quindi, la seconda potenza dopo l'Inghilterra è l'Austria. Poi c'è una terza potenza emergente, una potenza che ha vinto, ma che è stata di volta in volta un po' più ambigua. È stata amica di Napoleone, poi ci ha litigato, poi ci hanno fatto delle guerre, poi hanno fatto le pace, poi si sono scambiati i territori, che è la Prussia. La Prussia è uno degli stati più importanti nella miriade di stati e statarelli in cui è divisa la Germania in quel momento. Sapete quanti stati c'erano in Germania? Noi che ci lamentiamo gli otto stati italiani? Circa 400. 400. Tra città libere, Margraviati, Ducati, Regni, eccetera, eccetera. La Prussia, però, è il gigante più grosso. E ha vinto, perché poi nella battaglia di Waterloo sono i prussiani di Blucher che attraverso la foresta arrivano nel momento in cui le forze francesi stanno per prevalere, arrivano i prussiani. Napoleone pensa che sia Grouchy, il maresciallo Grouchy, che invece sta in tutta l'altra parte, ha perso i collegamenti, eccetera, eccetera, e i prussiani determinano il rovesciamento del fronte e la sconfitta di Waterloo, che è la prima ed ultima sconfitta di Napoleone. I prussiani sono piuttosto ben organizzati, lo erano anche allora, e i prussiani tendono a primeggiare tra questi quattrocento statarelli tedeschi, come poi avverrà. Poi c'è un'altra potenza dietro, grande, grandissima, che è l'impero russo, che è la Russia. e l'impero russo è stato quello che ha partecipato con delle sue truppe alla battaglia di Waterloo, ma è stato quello che ha dato, che ha sfiancato la forza napoleonica quando Napoleone ha deciso di invadere la Russia. Ha anticipato Hitler, ha portato più di un milione di uomini al di là delle frontiere attraversando la Polonia, arriva a Mosca, trova Mosca bruciata, muoiono del fame e di freddo, i generali russi con la tattica Putusov, con la tattica dell'indietreggiamento e del temporeggiare alla Fabio Massimo con Annibale, riescono a sfiancare l'esercito francese, comincia la ritirata, il passaggio della Beresina, gli uomini che si congelano, i cavalli che muoiono, le vettovaglie che si perdono, i punti che crollano. Napoleone che rientra furtivamente con una carrozza, riesce a raggiungere Varsavia, finalmente a riscaldarsi, muoiono centinaia di migliaia di uomini. Questo è il colpo fatale alla forza di Napoleone. Napoleone poi torna a Parigi immediatamente, si preoccupa, ma praticamente è il momento della abdicazione di Napoleone che però in considerazione dei suoi meriti perché era obiettivo, c'è una cosa che mi devo dire adesso me ne sono scordata, viene relegato all'Isola d'Elba. All'Isola d'Elba non resiste dopo un po' di tempo, risbarca in Francia, ricomincia il casino i cento giorni e si arriva a Waterloo. Questo è un po'. Quindi i russi pesano perché come è accaduto a Stalin nella seconda guerra mondiale, i russi hanno avuto il paese distrutto, decine di migliaia di morti, però hanno vinto hanno vinto e sono un immenso paese che preme dietro la Prussia, quindi la Prussia deve guardarsi le spalle e non gli può dire di no, la Russia confina con l'Austria e quindi però sono sempre stati alleati e quindi questi paesi sono quelli che determinano le regole del gioco. La cosa che vi volevo dire c'è una eredità di tutta questa storia francese che il congresso di Vienna vuole cancellare e che non cancellerà che è il codice napoleonico perché fra i grandi meriti di questa parentesi della storia c'è il codice napoleonico che è praticamente lo svecchiamento del vecchio codice romano, delle vecchie regole Longobarde, Sassoni barbariche che esistevano e che porta ad un incivilimento notevole dei costumi. Quello resta e bisogna dare atto alla Santa Alleanza al congresso di Vienna che quello resta. Allora abbiamo detto l'Inghilterra spiegando i motivi l'Austria la Prussia l'impero russo e poi stranamente c'è la Francia. Guardate questa è una cosa incredibile e che c'entra la Francia? Se c'è un paese contro il quale tutta l'Europa si è coalizzata è la Francia e se c'è un paese che ha organizzato le coalizioni contro è la Francia quindi la Francia dovrebbe essere messa in castigo e invece no. E invece no. In Francia vengono restaurati i Borbone purtroppo il vecchio re ha perduto la testa gli è stata tagliata la testa assieme alla regina il figlio il delfino famoso è scomparso non si sa che fine abbia fatto ed era un fratello del re si trova qualcuno che è emigrato a suo tempo per salvare la pelle e che viene rimesso sul trono i Borbone continueranno il regno di Francia ma questo non vuol dire che la Francia abbia vinto come fa la Francia a stare accanto ai vincitori paradosso dei paradossi il ministro degli esteri francese che in nome del nuovo re francese Borbone si presenta a Vienna è l'ex ministro di Napoleone Taglieron che a sua volta Taglieron non Napoleone è stato uno dei deputati che hanno deciso la decapitazione di Luigi XVI e prima ancora era un reverendo è una cosa che lascia perplesso e perché? beh dunque ci sono delle spiegazioni spiegazioni che quando questo re Borbone viene rimesso sul trono dalle braionette austriache e prussiane praticamente non è uno sconosciuto ma è uno straniero in Francia si trova un paese a governare e quindi utilizza la gente che ha sotto mano che è la stessa gente che ha servito Napoleone e infatti noi troveremo generali napoleonici al servizio del re e troviamo questo signore Taglieron che faceva il ministro degli esteri e farà il ministro degli esteri perché non ce ne sono altri ma Taglieron non è soltanto un abile trasfuga tra le vicende dell'impero o del regno di Francia Taglieron è un uomo intelligente straordinariamente intelligente Napoleone che era un uomo di altrettanto valore definisce Taglieron con una frase che mi piace tanto ed era il suo ministro lo definisce in merde dans un bas de soi cioè una merda in una calza di seta è una definizione bellissima Taglieron non mi inganna che cosa fa Taglieron? dovrebbe essere accolto con molta diffidenza a Vienna tutti dovrebbero guardarlo con schifo perché questo Taglieron quando era ministro degli esteri di Napoleone era quello che andava da quegli stati che oggi lo accolgono a dire allora voi avete perso il Mecklenburgo tu Austria la Lombardia la passi al Regno d'Italia tu Prussia devi cedere la Sassonia è lo stesso è lo stesso uomo con gli stessi uomini quindi è in pensare come fa questa presentanza? Taglierà sostiene non c'è scritto da nessuna parte badate Taglierà sostiene che poiché la Francia si è divisa in due la Francia che ha combattuto contro tutti più gli emigrati alcuni dei quali come a Coblenza hanno combattuto assieme agli inglesi e ai prussiani agli austriaci e ai russi ebbene la Francia ha vinto anche lei quindi deve sedere al tavolo dei vincitori e poiché Taglierà è un uomo capace molto più degli altri mediamente e gli altri accettano questa posizione quindi l'altro paese che decide dei destini dell'Europa è la Francia che fino ad allora li ha rovinati dal punto di vista delle opinioni politiche volte alla restaurazione da parte del congresso di Vienna e qui vorrei farvi un esempio portarci ai giorni nostri ricorderete per chi ha seguito le mie chiacchierate sulla seconda guerra mondiale che quando Re Vittorio Emanuele II fugge non c'è altro verbo fugge a Brindisi con Badoglio perché gli italiani non possono più fare la guerra ha fatto l'armistizio l'8 settembre quindi vogliamo cessare la guerra dopo qualche giorno dichiara la guerra alla Germania e vabbè ma si sforzano Badoglio soprattutto ma anche il Re che poi alla fine firmava gli atti di arrivare ad un accordo con gli alleati per definire uno strano rapporto giuridico fra l'Italia monarchica in quel momento e gli alleati che viene chiamato cobelligeranza cioè l'Italia diventa cobelligeranza non è alleata degli alleati no non è una nemica battuta non è un paese in armistizio improvvisamente dichiara la guerra alla Germania ed è cobelligerante anche uno dice beh è stato un colpo azzeccato perché poi alla fine della guerra gli alleati ci diranno beh anche voi siete stati dalla nostra parte non vi vogliamo punire come puniremo la Germania ma come l'idea perché agli alleati della cobelligeranza non gliene frega assolutamente nulla l'Italia sarà sanzionata pesantemente e lo è tuttora dal trattato di pace il fatto della cobelligeranza verrà invocato dai nostri diplomatici ma gli altri non hanno orecchie su questa faccenda e noi abbiamo fatto una guerra alla Germania facendo morire migliaia di uomini che si erano arruonati nell'esercito di liberazione monarchico assieme agli alleati vi ricordo le battaglie Montelungo eccetera eccetera per la riconquista dell'Italia del nord gratis e t'amore dei un'operazione assolutamente inutile costosa e aggiungerei vergognosa Taglierò in una fase di questo genere riesce a far valere invece questa cobelligeranza e diventa uno degli artefici delle decisioni del congresso di me oh questa è la verità mica è da poco e di fronte e di fronte a un personaggio altrettanto abile e capace che è il ministro degli esteri austriaco che è Metternich ma fra i due si stabilisce un'intesa sentono che c'è che è il momento di decidere qualche cosa di importante e di mettere una pietra sopra tutto quello che è accaduto i due si intendono e decidono il congresso di Vienna diventa il punto diventerà il punto di riferimento di tutte le relazioni diplomatiche del secolo che verrà c'è però un piccolo particolare c'è l'imperatore di Russia che vuole dare una sanzione come dire morale a quello che decide il congresso di Vienna e quindi insiste per un prologo in cui si invoca l'autorità del signore perché aiuti le menti dei governanti europei ad assicurare eccetera eccetera e questo prologo viene accettato da tutti ovviamente perché la Russia è un paese troppo importante per dirgli di no gli inglesi che sono i più smaliziati dicono vabbè è inutile ma visto che è inutile possiamo accettarlo questo prologo cristiano agli accordi del congresso di Vienna definirà la Santa Alleanza ecco perché la chiamiamo la Santa Alleanza perché c'è questa intonazione cristiana cristiano-ortodosso se vogliamo voluta dai russi la Santa Alleanza diventerà il cuore del sistema della restaurazione in Europa attenzione l'importanza degli accordi non è soltanto il ritornare indietro ci sono anche delle cose che decidono in questi negoziati che poi non sono stati neanche dei negoziati adesso vi spiegherò perché stabiliscono altri due principi oltre alla restaurazione del passato il primo che devono essere restituiti ai paesi di origine tutte le opere d'arte trafugate da Napoleone che Napoleone in questo era come Goering arrivava in un paese razziava tutte le opere d'arte e le portava a Parigi il congresso di Vienna decide che invece tutto deve essere restituito questa è subito e devo dire che molte delle opere che sono state sono state restituite diciamo che l'Italia è quella che ci ha rimesso di più perché poi la forza politica dei governanti italiani compreso il pontefice anche allora era quella di oggi cioè poco più di zero l'altro principio che viene stabilito che è molto importante e bisogna riconoscerlo viene stabilito su insistenza del governo inglese è che gli stati europei decidono siamo nel 1815 l'abolizione della tratta degli schiavi nelle loro colonie e beh questo è un principio di diritto di diritto umano estremamente importante però non ce lo ricordiamo mai sappiamo però come si svolse il congresso di Vienna non fu un congresso dove arrivavano le delegazioni si sedevano ad un tavolo i capi delegazione e poi si distribuivano in sottogruppi come avviene oggi no no Vienna per un anno è stata il centro il cuore dell'Europa è anche il centro del mondo non c'è stata mai una riunione plenaria la gente si incontrava si incontrava cene balli feste teatri è stata un'orgia di divertimenti e di contatti bilaterali e alla fine si è firmato l'atto che l'atto finale e batate bene mentre si teneva questa specie di baldoria diplomatica che tra l'altro era ripresa dai giornalisti di tutta Europa che si univano perché anche allora c'era una stampa non libera ma c'era una stampa che svolgeva la sua funzione sia pure che un certo ritardo nei tempi intervengono i cento giorni di Napoleone quindi il congresso viene sospeso Wellington che è il delegato inglese lascia il congresso sarà sostituito da un altro e va a combattere a Baterloo i lavori continuano perché ormai si è convinti che Napoleone sarà sconfitto e infatti l'atto finale del congresso di Vienna sarà firmato nove giorni prima della sconfitta di Napoleone il 18 giugno 1815 oh tutta questa chianchierata non abbiamo parlato poi della cosa più importante e cioè la restaurazione degli assetti territoriali perché avvengono un certo numero di mutazioni territoriali in Europa ora è inutile che vi faccia vedere le cartine dell'epoca perché tanto ci capireste poco i nomi sono cambiati eccetera eccetera cerco di darvi un flash va riconosciuto ad onore della verità che l'Inghilterra è l'unico paese che non chiede compensi territoriali ma non è buona l'Inghilterra l'Inghilterra ha l'occhio lungo l'Inghilterra dice io non voglio neanche una zolla di terra d'Europa però sulle colonie in Africa in America ci vorrei mettere mano agli altri non gliene frega niente perché hanno una visione eurocentrica e l'Inghilterra consolida ed aumenta il proprio dominio coloniale quindi resta una grande potenza europea si rafforza sul piano multicontinentale ma non fa la parte della rapace che vuole un pezzo qui un pezzo là di territorio la Russia no la Russia è piuttosto virulenta guadagna tre regioni importanti anzi due regioni importanti della Germania la Renania settentrionale cioè la zona del Reno il territorio che è sulla destra del fiume Reno andando verso il mare del nord guadagna un territorio che è la Westfalia e soprattutto si pappa una parte della Polonia che Napoleone voleva avrebbe voluto fare regno che poi cosa che non accade anche la Russia è piena di appetiti e ovviamente ovviamente si annette la Finlandia da allora ricorderete la guerra russo-finlandese di cui ho parlato e l'altra parte della Polonia si anzi anticipavano la spartizione Molotov von Ribbentrop è la stessa cosa perché come vedete poi gli interessi strategici ed economici dei paesi dei paesi veri dei paesi seri sono sempre gli stessi anche la Svezia che ha avuto un colpo di fortuna adesso vi spiegherò perché si allarga toglie la Norvegia alla Danimarca e poi si costituisce una grande Olanda che si chiama Regno dei Paesi Bassi sotto la dinastia Orange-Nassau perché una grande Olanda? Perché ne fanno parte la Fiandra e la Vallonia due regioni che nel 1830 cioè 15 anni dopo formeranno il Belgio il principio che viene fuori da questi assetti territoriali è che sono i re e i loro ministri che decidono non certo le popolazioni vengono consultate non si fanno certo i plebisciti ricordatevelo perché quando parleremo dell'Italia e dovremo parlarne parleremo di plebisciti che è in fondo una forma di democrazia filo guidata quello che volete ma è ben diversa qui decidono cioè allora io ti do il Mecklenburgo se io te lo lascio e tu mi dai non lo so il Friesland si sviluppa però anche un principio in queste mutazioni territoriali noi siamo d'accordo ci siamo scambiati naturalmente che tutta questa cosa non avviene pacificamente ci vuole un anno per mettersi d'accordo però si mettono d'accordo e si stabilisce tacitamente ma neanche tanto tacitamente un principio di cui sentiamo parlare ancora oggi quando in Birmania si fa un colpo di Stato e la polizia e i soldati sparano sulla folla che vuole la democrazia e si dovrebbe punire la Birmania che cosa dicono la Cina e la Russia che sotto sotto sono quasi d'accordo eh no ogni Stato deve essere deve essere autonomo non possiamo fare degli interventi non richiesti anche se prima prima del durante il sipario di Ferro gli stessi paesi Russia e Cina dicevano sono le potenze del patto di Varsavia sono potenze a sovranità limitata perché c'è una sovranità più grande che la sovranità dell'organizzazione nella quale rientrano ebbene questo non è un principio nuovo è il principio che viene stabilito al congresso di Vieta cioè tutti i paesi sono a sovranità limitata per assicurare il mantenimento dell'ordine e mantenere il sistema della restaurazione si sviluppa questo principio e si prevede la creazione di uno strumento politico militare questo è molto importante e cioè le forze armate delle potenze vincitrici Austria Prussia Russia e poi l'Inghilterra e poi la Francia parteciperanno con le loro forze armate per la repressione di qualunque disordine che vada a turbare il sistema deciso dal congresso di Vieta è un fatto importante è la prima volta nella storia che si istituisce un meccanismo di sovranità limitata e di repressione del cambiamento questo succede in Europa però che cosa accade per l'Italia? Beh l'Italia l'Italia che è stata occupata da tutti dagli spagnoli dai francesi dagli austriaci poi di nuovo dai francesi eccetera si congela la situazione pre-rivoluzione francese e in questo momento cioè in quel momento l'Italia è divisa in una decina di piccoli stati e quali sono questi stati? Beh rimassiamo in un attimo la storia che abbiamo studiato beh c'è il regno Lombardo-Veneto lo ricordate? che sarà chiamato così quindi è un nuovo nome ma in realtà era già stato Ducato di Milano sotto gli austriaci che sotto il controllo dell'impero austriaco viene affidato praticamente con una specie di protettorato al governo di Vienna più i territori veneziani perché Venezia è stata venduta anche per l'Ignavia dei veneziani che non hanno sparato un colpo da Napoleone all'Austria a suo tempo e la Valtellina quindi il regno del Lombardo-Veneto è una cosa nuova quindi c'è un po' una variazione rispetto alla pre-rivoluzione francese passa alla competenza dell'impero austriaco e comprende ovviamente la Lombardia il Veneto e la Valtellina poi c'è il Gran Ducato di Toscana chi governava il Gran Ducato di Toscana? Una dinastia di Asburgo Lorena ma guarda un po' a Vienna ci sono di Asburgo qui c'è una dinastia parente di Asburgo Lorena che si allarga e si allarga questo Gran Ducato con l'incorporazione del Principato di Piombino e dello Stato dei Presidi ne parleremo meglio quando poi parleremo del Gran Ducato di Toscana il Principato di Piombino era una cosa autonoma che era stata creata da Napoleone e quindi è giusto che sia cancellato lo Stato dei Presidi è un residuo della dominazione spagnola non si è mai capito di chi fosse però è giusto che rientri nella estensione territoriale del Gran Ducato di Toscana poi c'è un piccolo ducato il ducato di Parma Piacenza e Guastalla che in realtà non si sa che farne e soprattutto c'è un problema che mentre Napoleone è a Sant'Elena e non ne tornerà più c'è la moglie di Napoleone che è Maria Loesa d'Austria ricordate lo stesso discorso che io faccio sposare una principessa austriaca ad un principe francese così non ci rompiamo vicevendevolmente è la stessa cosa Napoleone aveva licenziato Giuseppina de Boarnet e si era poi sposato con Maria Luisa d'Austria che diventerà la madre dell'Aquilotto era la moglie di Napoleone era stata imperatrice dei francesi e la si poteva lasciare senza un'occupazione allora il congresso di Vienna Metternich che è austriaco si compenetra di questa situazione dinastica e quindi il ducato di Parma Piacenza e Guastalla viene assegnato a Maria Luisa ma attenzione come vita Rizio cioè quando morirà ritorna al ducato di Modena e quindi abbiamo il periodo di Maria Luisa che è stato un periodo splendido fortunato per Parma e poi passiamo al ducato di Lucca città deliziosa il ducato di Lucca viene assegnato ma a titolo provvisorio senti intanto te lo do ti è un momento a chi? alla dinastia Borbone Parma che è una dinastia italo-spagnola badate perché vabbè lo vedremo successivamente aspettando che muoia Maria Luisa perché quando morirà Maria Luisa il ducato di Lucca passerà al gran ducato di Toscana e il Borbone Parma che ha retto il ducato di Lucca andrà a reggere il ducato di Parma in quest'anno una certa confusione dinastica poi c'è il ducato di Masse Carrara anche questo è un vitalizio assegnato a chi? alla madre del duca di Modena che è della dinastia Austria-Est alla morte della mamma il ducato di Masse Carrara dovrà passare al ducato di Modena poi c'è lo Stato Pontificio e qui nessuno discute il Papa per carità di Dio e lo Stato Pontificio ha diciamo ha delle enclave che governa nel Regno di Napoli cioè le enclave di Benevento e Ponte Corvo e queste vengono riconosciute in cambio però del consolidamento territoriale dello Stato Pontificio deve cedere al Regno di Francia l'Avignone Avignone i possedimenti che ha l'Avignone e il Contato Venassino che è una enclave pontificia nel Regno di Francia il territorio pontificio rimane indipendente la Repubblica di San Marino non interessava nessuno neanche il Regno di Napoli è una storia che lascia tutti un po' perplessi perché durante dopo la sconfitta di Napoleone in Russia regna sul Regno di Napoli Miura ex maresciallo napoleonico e Miura si schiera con gli stati che combatteranno nuovamente Napoleone ovviamente Napoleone non è contento di questa situazione lo chiama traditore eccetera eccetera quando ci sono i cento giorni di Napoleone e tutti gli stati d'Europa si uniscono e dicono adesso basta dobbiamo abbattere il tiranno eccetera eccetera Miura è molto perplesso che faccio? La moglie lo spinge la moglie che è la sorella di Napoleone lo spinge ad unirsi con gli altri stati come farà la Svezia che in questo momento è governata da un maresciallo napoleonico che è Bernadotte la Svezia si allea alla Francia scusate alla Pursia alla Russia eccetera non gli ne frega niente che gli venga il regno da Napoleone Miura Miura negozia e poiché i paesi con i quali vorrebbe allearsi sono riuniti a Vienna dice ma se io vengo con voi mi garantite il regno? e la risposta è sì allora dice aderisco ma la moglie che è la sorella di Napoleone dice ma che fai vai contro mio fratello allora mentre Miura si sposta verso il nord con il suo esercito non si sa bene per andare a favore di chi cambia idea cambia idea e si schiera con Napoleone ovviamente a questo punto il congresso di Vienna sistemato Napoleone sistema pure Miura ritornerà sul trono del regno di Napoli l'ex re di Napoli che era un borbone che nel frattempo si è rifugiato in Sicilia e quindi avremo il regno di Napoli e di Sicilia che darà luogo al regno delle due Sicilie ecco la curiosità non darà luogo al regno delle due Campanie ma in segno di riconoscimento perché la Sicilia aveva accolto il refugiasco di fronte alle truppe francesi la Campania diventa la seconda Sicilia abbiamo il regno delle due Sicilie ma non è finita Miura nel frattempo allora Miura ovviamente resiste protesta le truppe austriache scendono da Porto Gruaro verso Ferrara arrivano in combolo tra la Romagna e le Marche Miura va loro incontro per la sconfitta ma prima di essere sconfitto a Rimini lancia il famoso Proclama di Rimini Proclama di Rimini che viene scritto diciamo dieci giorni fa e viene pubblicato tra venti giorni che è il proclama in cui invoca l'aiuto degli italiani perché l'Italia torni ad essere una nazione fra le altre libera indipendente ed entità politica assestata naturalmente questo proclama viene ignorato da tutti Miura viene sconfitto Miura andrà in esilio poi tenterà uno sbarco nel neoregno delle due Sicilie finirà malissimo e verrà fucilato dalle dalle sue ex truppe divenute borboliche ed infine c'è un altro stato e qui vi sfido tutti tranne uno o due cui già l'ho detto c'è un altro stato che viene confermato dal congresso di Vienna che viene confermato nonostante l'interesse contrario dei paesi confinanti attenzione che è la repubblica di Cospaglia l'avete mai sentito questo nome libero no che è la repubblica di Cospaglia allora nel 1440 c'era stato un negoziato 1440 fra il papa Eugenio I e la signoria di Firenze praticamente il papa aveva dato in garanzia un pezzo di territorio visto che aveva un debito di 15.000 fiorini d'oro e a garanzia aveva dato questo pezzo di terra bisognava delimitarlo poi questi soldi non so se sono stati pagati o meno sta di fatto che questo territorio doveva essere delimitato quindi i funzionari toscani da una parte e i funzionari pontifici dall'altra nel 1440 si sono incontrati per definire i confini mettere i cippi e dire qui finisce la Toscana qui comincia lo stato del papa e decisero comunemente che il confine sarebbe stato segnato dal fiume Rio che non è un gran nome allora è come quando pensiamo alle montagne abruzzesi cioè il gran sasso in fondo curioso di vedere le cose il fiume Rio però perché queste cose furono decise a tavolino poi si incontrarono e poi ognuno andò al fiume Rio per mettere il cippo il gran ducato di Toscano signoria di Firenze oppure stato della chiesa eccetera eccetera se non che che succede siamo in una zona che è vicino città di Castello in un punto di connessione fra le Marche l'Umbria la Toscana e il Lazio c'è una montagna da cui discendono allora guardiamo la cartina di Italia c'è una montagna in mezzo all'Italia una montagnetta niente di particolare da cui discendono verso sinistra cioè verso il terreno due fiumi sciattoli uno a destra e uno a sinistra tutti e due si chiamano fiume Rio quindi i toscani si fermano al fiume Rio e li mettono i cippi i pontifici si fermano al loro fiume Rio e mettono i cippi e in mezzo non c'è non c'è nessuno e nasce così la Repubblica di Cospaia perché quei cittadini siamo in un territorio di circa 330 ettari quei cittadini che erano in questo territorio ad un certo punto si organizzano e visto che non dipendono da nessuno cercano di sfruttare la situazione e la sfruttano così bene che diventano ricchissimi perché coltivano il tabacco e poiché il tabacco è tassato sia in Toscana che nello stato pontificio lo vendono al prezzo che vogliono e lucrano un sacco di soldi questa situazione paradossale dal 1440 viene cancellata da Napoleone Napoleone era un famoso cancellatore di confini però nel momento in cui con il congresso di Vienna bisogna restaurare la situazione pre-napoleonica pre-rivoluzionaria sia la Toscana sia i pontifici dicono beh vabbè risolviamo pure questo fatto qui questa storia della Repubblica di Cospaia dopo 500 anni non sta in piedi ma gli stati invece dicono no noi abbiamo stabilito un principio la restaurazione dello stato quo ante quindi la Repubblica di Cospaia deve restare così com'è poi la sbroglierete fra voi ma noi non tocchiamo nulla la restauriamo quindi diamo un riconoscimento internazionale alla Repubblica di Cospaia la situazione poi si evolverà circa vent'anni dopo quando con un accordo formale con il Gran Ducato di Toscana Cospaia deve firmare un atto di soggezione a Roma e viene aggregata poi al circondario di città di Castello ed ammessa allo stato pontificio fu però concesso il diritto di continuare a coltivare il tabacco che era stata la ricchezza di questa Repubblica ma fino a mezzo milione di piante non troppe perché se no il vizio si sarebbe espanso in modo eccessivo ebbene la Repubblica di Cospaia che chiude questa nostra analisi delle mutazioni territoriali determinate dal congresso di Vienna è un fatto molto curioso che pochi conoscono in sostanza il congresso di Vienna trasferisce quasi in blocco l'Italia sotto la diretta influenza austriaca tranne che per il regno di Sardegna che resta tale e quale sotto i Savoia ma curiosamente è il Piemonte e la Savoia della Sardegna non si interessa nessuno la Sardegna è una specie di colonia piemontese anche se poi internazionalmente il regno sarà solo il regno di Sardegna e resta immutato lo Stato Pontificio il regno di Sardegna non sarà orgogliosamente questo va sottolineato sotto l'influenza austriaca lo Stato Pontificio invece sarà sotto l'influenza francese però voi capite che questo riassetto della situazione politica territoriale italiana così importante per noi storicamente è roba da niente rispetto alla frammentazione tedesca perché in quel momento c'erano quasi 300 stati eredi del sacro romano impero disciolto nel 1806 e gli accorpamenti decisi dal congresso di Vienna riducono a 39 stati questa confusione in Germania che poi saranno raggruppati in una confederazione tedesca sotto la guida di chi? Eh beh dei due paesi più importanti l'Austria e la Prussia che immediatamente litigheranno tra loro che cosa vogliamo una unica confederazione a parità di diritti vogliamo una piccola Germania sotto il controllo della Prussia mentre l'Austria sta per conto suo vogliamo la fusione vogliamo rifare un altro impero tedesco centrale che raccolga tutti la questione sarà definita poi con la guerra austro-prussiana una settantina d'anno quello che è evidente è che l'assetto politico italiano sarà nelle mani dell'Austria potrà piacere potrà non piacere però l'Austria a questo punto diventa il paese colonizzatore dell'Italia e contro l'Austria si appunteranno tutte le richieste di cambiamento che verranno dalle classi colte dai giovani studenti universitari dagli intellettuali e da tutti coloro che cominciano ad organizzarsi in varie sette strutture organizzazioni come volete tipo la carboneria tipo la massoneria tipo la giovane Italia di Mazzini gli stessi anarchici cioè si creerà dal basso un movimento di contestazione di questa situazione che vede l'Italia divisa anche se in realtà queste correnti sotterranee di opposizione così evolute da anticipatrici in realtà non hanno un'idea precisa di ciò che vogliono vorrebbero che questo non accadesse che la situazione cambiasse ma che Italia pensano ad un'Italia confederale ad un'Italia sotto lo sbergo del Papa ad un'Italia dominata dal granduca di Toscana oppure dal regno di Sardegna non si capisce bene non lo sanno ma sentono e questo è molto importante che dalla storia dalla letteratura dalla bellezza del paese deriva una unità sostanziale che non riesce ad esprimersi in espressione politica e quindi una minorità politica rispetto agli altri paesi europei questo fermento comincerà a manifestarsi all'incirca venti anni dopo il congresso di Vieta e cominceranno i moti i moti del 20 e 21 in Italia del 30 e 31 sempre in Italia per sfociare poi nel 48 alle famose rivoluzioni che interesseranno non solo l'Italia ma tutta l'Europa e quella sarà chiamata pensate i ritorni storici la primavera d'Europa ve la ricordate la primavera araba la stessa cosa accadde in Europa un secolo prima e allora ecco e suscitò le stesse speranze e provocò le stesse delusioni che poi le cose sostanzialmente tra il 48 e il 49 non cambiarono molto ci furono dei fatti emergenti che vedremo come la storia gloriosa almeno per me della Repubblica Romana e poi tutto ritornò come prima e ricominciarono i moti e via via ma non vi voglio anticipare uno se no non vi divertite con me grazie grazie a tutti grazie a tutti